Ci sono i residenti, ci sono i monaci di Chiaravalle, ci sono gli ambientalisti. Oggi, alla lista degli oppositori del progetto per un nuovo stadio rosso-nero a San Donato, si aggiungono anche 70 professori delle università milanesi, che hanno inviato una lettera ai vertici della FIFA e della UEFA, i massimi organi a livello mondiale ed europeo del calcio. Assumete una posizione netta contro la costruzione di nuove infrastrutture su terreni non urbanizzati. È questo, nero su bianco, l'appello dei 70 docenti, che sono distribuiti tra Politecnico, Statale e Cattolica, destinatari della missiva Gianni Infantino, presidente della FIFA, Alexander Ceferin, presidente della UEFA e Gabriele Gravina, presidente della FIGC. La motivazione di fondo è sostanzialmente quella legata agli impatti ambientali e climatici, enormi secondo i docenti, quelli di un impianto sportivo su zone attualmente destinate ad uso agricolo. Da qui la richiesta di non costruire più nuove infrastrutture su aree non edificate, pratica che causa un aumento significativo della CO2 in atmosfera a causa della perdita di capacità di assorbimento del carbonio dei suoli edificati. Il nuovo stadio del Milan, continuano i professori nella lettera, comporterebbe la trasformazione di circa 30 ettari di terreno mai urbanizzato. Dovendo compensare la perdita ambientale, sarebbe necessario piantare 19 ettari di bosco e 32 mila alberi per arrivare in 20 anni a compensare quanto perduto a causa del consumo di suolo, che comprende tra l'altro anche diverse aree del Parco Agricolo Sud Milano. L'auspicio dunque è quello di vedere le federazioni calcistiche assumere una posizione netta contro la costruzione di nuove infrastrutture su terreni non urbanizzati, in modo da non compromettere quei principi di sostenibilità che, concludono i professori, ispirano le strategie globali di contrasto al cambiamento climatico, incoraggiando il recupero delle strutture esistenti, detto in altri termini, non costruite sul verde ma riqualificate il meazza.